Buon viaggio papà. Poche parole accanto alla foto di Piero Angela. Arriva così, fulmine e c'è sereno in questo sabato ridosso di ferragosto, la notizia della morte di Piero Angela. 93 anni, una vita dedicata alla scienza e alla diffusione della sua conoscenza. Così, venerdì 21 febbraio 2020, il giorno in cui il Veneto scopriva l'incubo coronavirus con i primi due casi accertati a vo, Piero Angela parlava a Vazzola dove era stato insignito del premio fuoriclasse 2019. Dobbiamo stare molto attenti. Quello che sta succedendo in Cina e con le autorità cinesi sembra esagerato, però col senno di poi bisogna giudicare, perché quella roba lì non è che bisogna scherzare troppo. Poi qui noi siamo capaci di trovare i vaccini, però c'è un tempo e questi virus sono veloci. Un'analisi lucida alla sua di giornalista scienziato che allora, 92 anni, aveva disegnato con quella consapevolezza che offre solo la conoscenza i mesi incerti che tutti avremmo vissuto. Diversamente dell'AIDS, che come si dice, se lo conosci lo eviti, qui se lo conosci comunque non lo puoi evitare. Non sai se il tuo vicino in aereo ha il coronavirus oppure no. come si è visto su quella nave ferma in Giappone, si stanno contagiando tutti. Ecco, quindi forse sì c'è un problema poi economico, perché lo sappiamo che si bloccano le forniture, eccetera. Deve essere attaccato e risolto in fretta, questo sì, però facendo misure anche drastiche. C'era il lockdown, c'erano le conseguenze per l'economia, c'era la consapevolezza che la scienza e i vaccini sarebbero stati l'arma contro la pandemia, in queste parole. Un legame profondo, quello di Piero Angela con la nostra regione, con Padova ancora più forte. È proprio la città del Santo che da cinque anni ospita il Festival del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, associazione che Piero Angela aveva fondato nel 1989. Commosso, ricordo del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che lo ringrazia per il legame con la città. Apri a tutti l'accesso a sapere, così anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. E così parlava Piero Angela al Bo in occasione del Festival del CICAP nel settembre 2019. La nostra società ha bisogno di persone che rispondano consapevolmente alle domande. E con queste parole, dalla pagina Facebook di Superquark, il programma condotto dal 1981 e lasciato in eredità il figlio Alberto, il suo congedo da tutti noi. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Grazie.